Chi era Luigi Walter Moretti? Oggi ne faremo un brevissimo video riassunto. Dunque, nasce a Roma nel 1906 ed è la città nella quale frequenta l'università, università che frequenta assieme a Libera. È un ottimo disegnatore e nei suoi disegni analizza sempre anche le strutture dietro alle opere, dietro alle opere antiche. Concepisce le architetture antiche come una combinazione di strutture e poi tamponamenti spesso successivi. Perché questo? Perché spesso in opere antiche, cioè proprio dell'antichità, nei secoli dopo si sono tamponate le intercapedini tra i pilastri, tra le colonne, eccetera. In particolare ci sono rimasti i suoi disegni della Biblioteca Laurenziana a Firenze, nelle quali descrive proprio questo rapporto, cioè dice ci sono gli elementi verticali e le tamponature che sembrano come fatte in un secondo momento. In tal modo applica il suo fare architettura anche al presente. La struttura per sé non interessa in quanto tale, viene ricoperta, però rimane riconoscibile. Altrimenti sarebbe una pura scenografia e non è questo che Moretti vuole creare. Ha la passione dell'antica Grecia, del barocco e dell'arte contemporanea. Infatti dice Borromini era rigoroso come un greco, colleziona arte antica ma anche arte contemporanea. Infatti nella foto che ho scelto di mettere qua, lo vediamo ritratto proprio con gli oggetti d'arte che ama collezionare. E lui ama proprio farsi vedere assieme a questi oggetti. Le primissime sue opere sono un pochino manieriste e c'è da notare che non partecipa al MIAR. A differenza dei suoi colleghi contemporanei, continua a prediligere la massa muraria, che però ama decomporre lasciando a vista solo dei pilastri, magari delle travi, negli spazi esterni. Entrando negli architetti dell'opera nazionale Badilla, non ha bisogno di proporsi come architetto, ma automaticamente gli arrivano degli incarichi. Essendo in questo ruolo, sviluppa una visione di modernità, che in opere di stato fascista non possono essere in opposizione all'antico e quindi vede la modernità come un suo superamento. Spesso i pilastri nei suoi edifici vengono rivestiti in travertino e anche in questo caso lui non mostra la nuda struttura. Mostra c'è un pilastro, però non mostra il pilastro in sé, mostra il pilastro in quanto tale, ma rivestito. Fa la casa delle armi, formosodini a Roma, e fa la celebre sala dello schermo al suo interno, che è una struttura che ha una doppia semivolta, che però non è che si congiunge, ma è sfalsata. È sfalsata in modo da far cadere dentro la luce del giorno. Nel secondo dopoguerra comincia a pubblicare assaggi sulla rivista Spazio, una rivista da lui finanziata, impaginata e anche scritta. Ne escono sette numeri, tutti quanti curati da lui. In questa rivista non analizza il contemporaneo e basta, ma anzi esplora temi di architettura e arte nella storia. Proprio in questa rivista fa un articolo nel quale mostra i volumi interni di opere storiche. Queste opere storiche vengono mostrate come dei plastici, dei plastici e degli spazi interni, cioè come se qualcuno avesse preso del gesso e l'avesse versato all'interno degli edifici e poi tolto l'edificio rivelando solo questo spazio interno. Nel dopoguerra costruisce una palazzina chiamata Il Girasole, a mio parere bellissima, nella quale illumina i sotterranei e l'atrio giocando con i volumi. Infatti spesso nella sua opera, negli edifici quelli abitativi, crea una base al pian terreno fatta di un materiale più scuro, ma anche di un volume che sta un po' a sé. Volume spaccato da una fenditura che crea l'ingresso e poi sopra ci mette un secondo volume che è proprio lo spazio abitativo stesso, quindi i piani, quelli normali nei quali troviamo i diversi appartamenti. Ed è proprio il modo nel quale lui tratta la luce a essere una particolarità dell'opera di Moretti. Infatti sembra come creare con intenzionalità delle spaccature che lanciano luci e ombre sagomate poi su altri volumi. Ne è un esempio la Stock Exchange Tower a Montreal, nella quale Moretti crea tre volumi incastrati tra quattro pilastri d'angolo che sono separati da una finissima fenditura, fenditura di ombra. Oppure nel complesso edilizio per uffici e abitazioni in Corso Italia e via Rugabella a Milano. Le Moretti pone un grande volume molto stretto sopra a un volume orizzontale, in basso, e questo, quello superiore, sporgendo, lancia quest'ombra fine, sottile, netta, sul volume sottostante.